Il presidente della regione Molise, nonché commissario ad acta per la sanità, Paolo Di Laura Frattura, ha firmato un decreto che prevede interventi per la gestione dello scompenso cardiaco nel distretto di Agnone. Si interverrà dunque con operazioni di assistenza domiciliare, alla base anche del progetto di prevenzione promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dall'ASDREM. Primo appuntamento della prevenzione nella tua città, cattoliche e cardarelli insieme per la salute dei molisani domani, venerdì 15 luglio a Riccia. Tema principale, la prevenzione cardiovascolare. Dalle ore 10.30 presso il poliambulatorio, dalle ore 17 in piazza sedati con una postazione mobile. In modo assolutamente gratuito e senza alcuna prenotazione, si effettueranno visite cardiologiche, elettrocardiogrammi e controlli della pressione arteriosa. Inoltre verranno illustrati i principali fattori di rischio che favoriscono lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. Questo primo appuntamento rientra nei festeggiamenti della Madonna del Carmine ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Riccia, la parrocchia di Santa Maria Assunta e il Comitato Festa, con il supporto di diverse organizzazioni di volontariato. Il tema forse è stato scelto perché le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei paesi occidentali. In Italia, 240.000 persone, di cui 110.000 circa sono uomini e 130.000 donne, muoiono ogni anno per malattie dell'apparato cardiocircolatorio. In particolare, l'infarto miocardico presenta una prevalenza maggiore nel sasso maschile, mentre le malattie cerebrovascolari colpiscono con maggiore frequenza le donne. Una delle cause principali è l'arterosclerosi, che è una malattia che colpisce la parete delle arterie. Un supporto dunque diretto e capillare fondamentale per diffondere messaggi di cura e prevenzione accessibili a tutti nel territorio.